E' arrivato il momento di svappare, svappo web! Siamo con Tommaso Bello per parlare della squadra di terza categoria che affronterà da qui a poco il camionato di competenza. Però la notizia più bella forse per l'intera Valle Caudina è il nome che si è dato a questa squadra. Tommaso ci puoi parlare da cosa è nato e perché il nome che stiamo per dire? Ma per lanciare un messaggio forte in Valle Caudina penso lo si possa fare tramite il calcio. Perché il calcio è una delle passioni più grandi nel nostro ambito territoriale. Quindi abbiamo deciso di dare un colpo tramite il calcio chiamando questa squadra Città Caudina. Perché crediamo fortemente nell'unione dei comuni della Valle Caudina. E siccome è un periodo dove tutti parlano dal mio punto di vista a vuoto inerente alla città Caudina, noi abbiamo voluto lanciare un messaggio forte tramite il calcio. L'allenatore di San Martino, altri calciatori oltre a quelli di Cervinara ci sono calciatori dei paesi limitrofi? Sì, assolutamente sì. C'è gente che viene da Montesarchio, da Paolisi, da Rotondi, da Cervinara. Quindi cerchiamo e soprattutto questo è un momento dove io faccio un appello a coloro che vogliono partecipare al progetto perché abbiamo iniziato la preparazione da tre giorni. Quindi chi vuole partecipare e chi vuole dare un segnale forte affinché questa valle possa unirsi e davvero concretizzare il sogno di creare una sola e grande città che possa contribuire anche attraverso il calcio che può essere un mezzo molto molto importante. Grazie a tutti.